Buongiorno a tutti, sono il geometra Pilotto Marco e faccio parte del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Rovigo. Oggi sono qui a presentarmi anche come coordinatore regionale della consulta dei geometri del Veneto, quindi rappresento i geometri che hanno deciso, hanno scelto di far parte del gruppo di protezione civile regionale del Veneto. Faccio parte della protezione civile da circa 20 anni, quindi sono partito facendo il coordinatore di un'associazione di protezione civile di cui ancora faccio parte e ho affrontato nell'arco degli anni diverse emergenze che tra poco poi vi illustrerò, dove vi farò capire, cercherò di farvi capire l'importanza che ha il geometra all'interno del sistema della protezione civile. Parlo di sistema perché? Perché chiaramente all'interno del sistema protezione civile ci sono diverse figure che passano dal volontariato normale, che sono coloro i quali vedete in tv spesso che vanno ad eseguire il montaggio delle tende, a professionisti tra cui noi geometri che andiamo a portare le nostre competenze professionali all'interno proprio del sistema di protezione civile. E quindi sono partito con una foto che voi vedete che ho inserito, che è una foto che è stata rilevata, è stata fatta durante il sisma dell'Emilia Romagna nel 2012. Perché? Perché noi geometri siamo stati abilitati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ancora nel 2011 per poter andare a verificare i fabbricati e rilevare i danni nel post-sisma. Quindi quando si verifica un sisma noi abbiamo un sistema di allettamento nostro interno dove a base piramidale veniamo attivati e all'interno del nostro gruppo regionale del Veneto abbiamo diverse squadre che sono formate solitamente da due o tre professionisti, due o tre colleghi, che una volta attivati partono e si reclano nel posto dove vengono mandati per poter verificare i fabbricati. Ma tra poco vi dirò di più. Tante volte mi viene chiesto come mai geometra all'interno della protezione civile, cos'è che centriamo noi, libri professionisti, geometri all'interno del sistema di protezione civile. Secondo me, e continuerò a dirlo e lo sosterò altre tante volte, il geometra può fare molto perché? Perché comunque siamo professionisti che tutti i giorni tocchiamo con mano il territorio dove viviamo, sappiamo come poterci muovere soprattutto durante le emergenze perché? Perché non voglio dire che sia così, però al 99% quando andiamo in emergenza comunque troviamo un luogo che è molto simile a un cantiere, parlo dell'emergenza sisma che poi vedremo, ma parlo anche di altri tipi di emergenze o altri rischi, rischio idraulico ad esempio, dove siamo intervenuti varie volte per verificare i fabbricati, ma non solo per rifiutare i fabbricati, ma per ripristinare tutte le opere di urbanizzazione che erano andate chiaramente, avevano in difficoltà e sono andate in difficoltà, ad esempio le strade, quindi abbiamo ripristinato diverse strade, diversi sottoservizi, quali fognature che in caso di allagamenti sono le prime ad avere delle difficoltà. Allora io partirei facendo un escursus veloce per quanto riguarda la normativa, ma non voglio entrare proprio nel merito. La prima legge nazionale che costituisce il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile risale al 92, che è la legge 225 del 92, che è stata sostituita nel 2018, quindi 2 gennaio 2018, con un decreto legislativo che va a riformare o a rivedere, non è che riformi, va un po' a rivedere, quali sono le competenze a livello nazionale sia del Dipartimento Nazionale ma anche dei Dipartimenti Regionali e Provinciali. Quindi alla fine il decreto, che è il decreto 1, non va a modificare tanto, va chiaramente a integrare la legge 225 del 92, che è la legge di riferimento per la protezione civile. Quindi a livello italiano, si sono accorti nel 92, si era accorto l'allora senatore Zamberletti, che è stato il fondatore poi della protezione civile italiana, si era accorto che negli anni prima del 92, quando succedeva un'emergenza, andavamo solamente a soccorrere e a superare l'emergenza, quindi c'erano due fasi importanti. C'era il soccorso vero e proprio, che chiaramente veniva fatto da coloro i quali erano reputati per il soccorso, quindi parlo di Croce Rossa italiana, parlo di Vigile del Fuoco, parlo comunque di enti che comunque sono abilitati tutti i giorni per fare il tipo di intervento e poi si andava a ripristinare tutto quello che era lo stato precedente all'evento. Poi si è accorto e si sono accorti che comunque mancava qualcosina, cioè cos'è che mancava? Mancava tutto quello prima che era una previsione e la prevenzione, cioè nel senso che hanno detto bene, se noi comunque ci prepariamo prima, quando arriva l'evento, noi intendiamo cittadini, tutti quanti, siamo pronti o sappiamo come comportarci per l'evento vero e proprio. Ecco, noi facciamo parte come liberi professionisti geometri del nucleo tecnico nazionale, nazionale, le NTN che si chiamano, che da qualche mese, anzi da un mese esatto, sono state trasformate in STN, quindi struttura tecnica nazionale, tramite un protocollo di intesa tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e gli ordini professionali a livello nazionale, quindi noi CNG, quindi Consiglio Nazionale di Geometri e Geometri Laureati, assieme al Consiglio Nazionale di Architetti e degli Ingegneri, abbiamo sottoscritto un protocollo col Dipartimento per creare una struttura tecnica nazionale, cioè avere a livello nazionale una serie di professionisti abilitati e preparati per essere pronti a intervenire durante le emergenze, poi vi spiegherò cosa noi facciamo realmente quando andiamo in emergenza. Vi accennavo prima, la protezione civile ha quattro fasi importanti, già previste dalla legge 225 e 92, ma poi ribadite e ampliate io direi anche dal nuovo decreto legislativo del 2018, che come accennavo prima sono la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento dell'emergenza. Velocemente vi dico, questi sono i quattro fasi, quindi prima la prevenzione era chiamata solo prevenzione, ma poi col nuovo decreto legislativo è stata integrata e si parla di mitigazione di rischi, perché chiaramente la protezione civile parte dal presupposto che venga fatta un'analisi del territorio, quindi vengono analizzati quali sono i rischi del territorio, chiaramente capite bene che un territorio montano ha dei rischi che possono essere diversi sicuramente da un territorio, voglio dire, pianeggiante, soprattutto per la diversità del territorio, ma anche per eventuali comportamenti in caso di emergenza. La previsione, velocemente, sono tutte quelle attività che sono dirette ad identificare e a studiare, voglio dire non solo staticamente, ma anche dal punto di vista dinamico, tutti quelli quali possono essere gli scenari possibili all'interno di un territorio, come vi accennavo prima. Mentre la prevenzione e la mitigazione dei rischi sono tutte invece quelle attività che si dividono poi in prevenzione, attività strutturali e non strutturali che poi vi accennerò velocemente, e sono tutte quelle attività che sono possibili per evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichi chiaramente all'interno di un territorio un evento e che possa creare dei danni. Quindi faccio prevenzione prima, prima che succeda l'evento, mi preparo prima. Questo poi vi spiegherò anche che è una cosa a livello di cittadino che io ritengo debba essere importante e fondamentale, ma tra poco ve lo accenno. Dicevo che oltre alla prevenzione, la prevenzione si divide in prevenzione strutturale e prevenzione non strutturale, chiaramente la prevenzione strutturale sono tutte quelle azioni o programmazioni che vengono fatte diciamo a livello legislativo soprattutto, invece il tipo di prevenzione preventivo non strutturale sono tutte quelle attività che possono essere svolte e tra l'altro stiamo svolgendo noi stamattina qua, che sono tutte quelle attività che vanno a diffondere, a far conoscere alla popolazione, agli istituti scolastici, di che cos'è la protezione civile e come ci si deve comportare durante un evento. Chiaramente i vari eventi devono essere affrontati in diversa maniera e i comportamenti chiaramente devono essere diversi e tra poco vi spiegherò un po' di più. Se vedete c'è scritto anche che uno dei compiti importanti della protezione civile è informare la popolazione sugli sinali dei rischi del proprio territorio. Gestire le emergenze, quindi abbiamo visto previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, quindi succede un evento, succede un sisma, succede un alluvione, si gestisce, si va a soccorrere, quindi sono tutte quelle attività o quegli interventi che sono diretti per riuscire a soccorrere le persone e a superare la problematica che è in atto. Tanto è vero che poi c'è la quarta fase fondamentale che è il superamento dell'emergenza. In questa fase noi entriamo soprattutto come professionisti, soprattutto per rilevare i danni o andare a gestire il ripristino di tutte le attività che erano precedenti all'evento che si è sviluppato. Ecco vi accennavo prima, chiaramente uno dei documenti fondamentali secondo me che il cittadino dovrebbe conoscere per il proprio territorio intendo, chiaramente il proprio comune dove abita, sono i piani di protezione civile comunali. Nei piani di protezione civile comunali, dove il geometra poi vi farò vedere entra direttamente anche nella redazione dello stesso piano, sono indicate tutte le indicazioni che vengono date dal proprio territorio dove si vive, quindi nel proprio comune, e tutte le fasi comportamentali che devono essere adottate in fase di emergenza. Quando parlo di emergenza, parlo emergenza non solamente a livello di sisma o alluvione, che sono le emergenze magari quelle più conosciute, ma vado anche a parlare di un'emergenza che potrebbe verificarsi, che si è già verificata e succederà ancora purtroppo, anche solamente che una domenica mattina ci si possa svegliare e si vada ad aprire i rubinetti dell'acqua e non esca più acqua da rubinetto. Già successo circa due anni fa in provincia di Rovigo, proprio nella città di Rovigo stessa, e tanti cittadini in quel momento lì, non sapendo cosa prevede il piano di protezione civile comunale, hanno preso in mano il telefono, hanno iniziato a chiamare in comune, chiaramente la domenica mattina in comune non c'è nessuno, giustamente, e quindi di conseguenza si sono trovati un po' spaisati, quindi non sapevano come comportarsi. Ecco, il sapere come comportarsi è previsto dai piani di protezione civile comunale di ogni territorio, quindi io vi invito, invito tutti quanti, a provvedere ad andare sul sito del vostro comune dove abitate e andare ad aprire il link dove c'è scritto piano di protezione civile comunale, dove ci sono scritte tutti i vari comportamenti che devono essere tenuti. Che cos'è un piano di protezione civile? È un piano di emergenza, noi lo chiamiamo, ok? Piano di emergenza che è tipo, un facsimile chiaramente, di quello che all'interno di istituti scolastici o delle aziende in qualsiasi altro ambiente di lavoro viene indicato, se vi ricordate, come piano di evacuazione. Non è proprio un piano di evacuazione, però è molto simile a un piano di emergenza. E all'interno sono indicati tutti i rischi del proprio territorio, quindi come accennavo prima, chiaramente un territorio montano ha dei rischi che saranno sicuramente diversi da un territorio pianeggiante, ma potrebbe esserci qualche rischio che è lo stesso, vi faccio un esempio, il rischio ambientale, quindi voglio dire che ci siano delle attività all'interno del territorio che possono essere a rischio permanente, si chiamano, possono essere sia su un territorio montano che su un territorio pianeggiante. Chiaramente ogni comune italiano ha l'obbligo di adottare il proprio piano di protezione civile comunale e dal 2008 vi assicuro che tutti i comuni italiani hanno già adottato il proprio piano di protezione civile comunale. Qualche comune, qualche sindaco si è dimenticato o tralascia l'aggiornamento che secondo me è molto importante, perché chiaramente il territorio nell'arco degli anni o anche dei mesi può cambiare, quindi chiaramente sia dal punto di vista del territorio ma anche dal punto di vista delle strutture vere e proprie e il sindaco che è la prima autorità di protezione civile del comune ha il compito di divulgare chiaramente il piano di protezione civile comunale. Chiaramente non è che noi cittadini dobbiamo aspettare che il sindaco ci venga a bussare alla porta per farci conoscere il piano, noi dobbiamo essere i primi chiaramente che ci mettiamo in gioco per andare a capire cosa prevede il nostro piano di protezione civile del comune. Il geometra professionista da circa meno di sei mesi, quindi una cosa molto recente, in Veneto abbiamo organizzato e abbiamo abilitato circa 45 professionisti di tutte e sette le province del Veneto che sono abilitati dalla Regione Veneto per poter redare i piani di protezione civile comunale. Quindi come vedete il geometra entra direttamente nella fase della prevenzione e previsione quando comunque fino a poco tempo fa entrava solamente nella fase del superamento dell'emergenza, quindi noi venivamo attivati nel momento in cui succedeva l'evento, quindi o il sisma o l'alluvione, ci chiamavano, venivamo attivati con delle squadre e facevamo il nostro intervento che era molto limitato dal punto di vista della protezione civile. Abbiamo pensato che in base alle nostre competenze professionali sicuramente noi potremmo dare il nostro apporto al sistema di protezione civile anche nella fase della prevenzione e della previsione. Tanto è vero che abbiamo terminato il 18 settembre di quest'anno il corso per redare i piani di protezione civile comunali. All'interno dei piani come vedete vengono analizzati tutti i rischi del territorio, quindi parliamo di un rischio idrogeologico, quindi per alluvioni e frane, un rischio sismico, un rischio industriale, l'incendio boschivo, il blackout, gli incidenti stradali, la neve, il rischio neve che non è un rischio da poco neanche in pianura, un rischio per trasporto a sostanze pericolose, il rischio mareggiate chiaramente se il territorio è un territorio lungo le coste, rischio valanghe e rischio per inquinamento idropotabile, perché se voi vedete bene questi rischi qua più o meno al di là del territorio dove viviamo, parlo Veneto, più o meno tutti i comuni del Veneto, delle province del Veneto sono interessati direttamente, quindi sicuramente quando andrete a vedere il piano di protezione civile del vostro comune vedrete sicuramente che questi rischi qua sono contemplati e per ogni rischio viene indicato come mi devo comportare come cittadino. Quindi il geometra analizza il territorio che o lo conosce già perché magari è di quel comune oppure può andare anche fuori comune sicuramente. Perché dico questo? Perché quando andiamo a analizzare i rischi abbiamo dei rischi che sono di tipo naturale e sono altri rischi legati all'attività dell'uomo, chiaramente c'è nel senso rischi di origine naturale, voglio dire può essere il sisma che non è prevedibile, può essere il vulcanico se il territorio lo prevede, le frane, le valanghe, le esondazioni, l'inquinamento che non è un rischio da poco perché negli ultimi anni comunque, negli ultimi 20 anni, 20, 30 anni è un rischio che comunque viene affrontato sicuramente in qualche comune magari rispetto a un altro perché dipende dal tipo di attività produttive o industriali che sono insediate nel territorio stesso. Abbiamo dei rischi che sono collegati all'aria al clima, quindi gli uragani, i nubi fragili, trombe d'aria, uno dice ma le trombe d'aria in Veneto non sono mai successe, noi nel 2015 con la tromba d'aria lungo la riviera del Brenta siamo intervenuti come geometri per verificare i fabbricati che a seguito della tromba d'aria che si era abbattuta periodo luglio-agosto, quindi estivo, siamo andati a verificare i fabbricati che avevano subito dei danni dovuti a questo evento meteorologico chiaramente che si era verificato. Le grandi nevicate, la siccità che è anche questa uno dei rischi che comunque si sta verificando negli ultimi anni anche nelle nostre zone del Veneto è l'inquinamento dell'aria. Altri rischi che sono collegati, che vanno analizzati sono gli incendi boschivi e di aree agricole, quindi chiaramente uno o l'altro, e gli incendi civili industriali, quindi tutti questi rischi vengono analizzati all'interno del piano. Non per ultimo, l'ho indicato per ultimo come rischio perché lo stiamo vivendo purtroppo da circa un anno direttamente, è quello collegato ai rischi della sanità e quindi parliamo di epidemie purtroppo e di epizosie, quindi voglio dire collegati alla pandemia tra virgolette collegata agli animali. Noi durante l'epidemia in corso, nel senso quindi l'emergenza coronavirus tuttora in corso, noi come geometri siamo stati impegnati chiaramente comunque in attività e lo siamo ancora oggi, siamo andati a verificare fabbricati che era stato chiesto alla Regione Veneto ancora a marzo aprile di quest'anno, fabbricati che potessero essere idoni perché venissero alloggiati chiaramente le persone che erano state contagiate e che risultavano persone che dovevano essere alloggiate all'interno di un fabbricato e non potevano rimanere all'interno delle proprie abitazioni per evitare che ci fosse un contagio all'interno della famiglia. Quindi noi abbiamo fatto delle verifiche di fabbricati, quindi abbiamo messo in campo le nostre competenze professionali, andando ad analizzare se i fabbricati erano idoni per ricevere chiaramente persone, se avevano tutti i requisiti tecnico-professionali e soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario, che è la nostra professione di tutti i giorni. Ecco, io mi soffermo sul rischio sismico un attimo perché noi come geometri a livello Veneto siamo stati impegnati non solamente nel sisma Emilia-Romagna 2012, ma anche nell'ultimo sisma che si è verificato, Sisma Centro Italia del 2016. Come vi accennavo prima, noi siamo stati abilitati, abbiamo 50 colleghi del Veneto, chiaramente divisi in ogni provincia, circa 6-7, ma anche qualcosina in più per ogni provincia, che sono stati abilitati nel 2011 dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il quale tramite un corso di formazione, una formazione che ha impiegato molti mesi, alla fine siamo riusciti ad essere abilitati, io sono uno dei tecnici abilitati per andare a rilevare il danno e verificare se i fabbricati dopo il sisma sono ancora agibili. Cosa vuol dire? Che al momento del sisma noi veniamo attivati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, mandiamo le nostre squadre che solitamente sono formate da due o tre colleghi e ci richiamo sul posto e andiamo a verificare se il fabbricato in quella via, in base alle coordinate che ci danno, è un fabbricato che in base ai danni che ha ottenuto durante purtroppo il sisma, può essere un fabbricato dove se all'interno metodo delle persone può ancora garantire la sicurezza delle persone oppure se devo dichiarare il fabbricato inagibile. Questo si fa tramite la redazione di una scheda che si chiama AEDES che è una scheda normata a livello nazionale dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e che ci dà la possibilità di fare il nostro lavoro di geometra di tutti i giorni andando a verificare chiaramente le strutture, andando a verificare i sottoservizi, andando a verificare la copertura se ha dei problemi, se la muratura è portante, se le scale possono essere utilizzate per accedere al piano terra e piano primo, quindi andare a dire che quel fabbricato lì possa essere ancora agibile. Vi assicuro che uno dei lati che abbiamo riscontrato sia nel sisma Emilia Romagna ma anche nel sisma Centro Italia, qualcuno di noi era già partito con il sisma dell'Aquila del 2009, io sono uno di quelli che sono stato all'Aquila, avevamo già capito che una delle cose più importanti che dobbiamo affrontare è la parte, io la parlo di parte umana tra virgolette, perché il rapporto direttamente che ha il professionista chiaramente con il cittadino, cioè quando si arriva all'interno di un fabbricato dove chiaramente il fabbricato alla fine verrà dichiarato inagibile perché non ci sono tutti i requisiti di sicurezza previsti, chiaramente le persone, i cittadini che sono di quella abitazione lì e che magari hanno investito sicuramente soldi con mutui sopra addirittura, in quel momento lì è difficile dire a una famiglia, a un cittadino dire guardi il suo fabbricato è inagibile, purtroppo non può rientrare nel suo fabbricato e deve essere alloggiato all'interno di tendopoli che sono quelle che vengono fatte durante un sisma, vengono create e quindi purtroppo questa è una delle fasi più importanti e poco piacevoli durante il nostro lavoro, però chiaramente dobbiamo fare i professionisti. Ho legato alcune foto di quello che i geometri hanno svolto all'interno del Sisma Centro Italia, quindi noi abbiamo fatto alcune attività tra le quali questi abbiamo fatto assistenza ai centri operativi, quindi i nostri professionisti, colleghi, sono andati all'interno di centri operativi, solitamente vengono fatti all'interno dei comuni, si chiamano COCKE, è un centro operativo comunale, questo è l'anagramma e cos'è che vanno a fare i geometri? Vanno a chiaramente verificare e a dare la possibilità ai cittadini di rivolgersi a loro per capire se il fabbricato può essere agibile o non agibile. Chiaramente c'è una parte pratica burocratica che è l'assistenza ai centri operativi, poi c'è una parte invece operativa che si mandano le squadre proprio fuori sul luogo dove è avvenuto. Ecco questa è la verifica agibilità del danno che vi dicevo prima, la famosa scheda AEDES, abbiamo ottenuto, ve l'ho detto prima, l'abilitazione da parte del Dipartimento Nazionale. Ecco quando noi andiamo in emergenza assolutamente viene richiesto da parte della squadra un minimo di presenza di 7 giorni sul luogo dove è avvenuto il sisma. Questo per dare continuità al lavoro che viene fatto per non creare problemi poi alla verifica dei fabbricati perché durante il sisma, subito dopo, chiaramente i fabbricati, dipende dalla gravità del sisma, sono tanti, quindi più si riesce a verificare velocemente maggiormente si riesce anche a dare la possibilità che le persone possono rientrare nei propri fabbricati. Un'altra attività che abbiamo svolto sono la redazione delle schede FAST che sono schede che sono state, voglio dire, create durante il sisma del centro Italia che prima non esistevano, cioè non avevano supporto legislativo. Sono FAST perché? Perché veloci, chiaramente si chiamano veloci, perché? Perché sono verifiche speditive, quindi la squadra andava sul luogo, vedeva velocemente senza andare ad analizzare tutti gli anni e doveva già dire in quel momento lì chiaramente se il fabbricato secondo loro era agibile o inagibile o comunque se si poteva renderlo agibile con degli interventi veloci. Anche qui veniva richiesto sempre un minimo di 6-7 giorni di presenza. Questi sono fabbricati che sono stati verificati. L'ultima attività che abbiamo fatto nel sisma del centro Italia sono l'attività cosiddetta data entry, quindi voglio dire tutta la parte burocratica, tutte le schede FAST e Aedes che rientravano dai sopralluoghi dovevano essere inserite in database, chiaramente a livello nazionale e questo è un lavoro che non da poco siamo riusciti a fare anche come geometri dei professionisti. Ecco, vi accenno che già nel 2011 uno può chiedersi ma come mai i geometri sono partiti con il sistema protezione civile? Da dov'è che è nata questa cosa qua? Nasce nel 2011 con la nascita dell'associazione nazionale geometri volontari per la protezione civile, un'associazione che è nata grazie al lavoro di alcune persone che hanno pensato comunque come dicevo prima che i geometri possono dare molto al sistema protezione civile, quindi a livello nazionale nasce chiaramente un'associazione che poi è stata diramata nelle varie regioni italiane e quindi ha sia una rappresentanza a livello nazionale ma anche una rappresentanza a livello regionale. Chiaramente è stata la prima ed è ancora la prima associazione tecnica di volontariato a supporto delle attività di protezione civile, quindi è nata, è tuttora in, voglio dire, in auge, quindi in attività. Chiaramente il compito dell'associazione dell'Agepro, l'acronimo è questo, è quello di fare attività formative e informative, quindi formative per dire chi ne fa parte, i professionisti per prepararli alle varie attività e informative chiaramente per divulgare che cos'è la protezione civile e quali siano i comportamenti anche ai vari cittadini italiani. Del Veneto, come dicevamo prima, siamo 48 tecnici abilitati e voglio dire che abbiamo già avuto la possibilità di metterci alla prova, al lavoro, voglio dire, nei Sisma, nelle due emergenze a livello italiano, quindi nel 2012 Sisma Emilia Romagna, avevamo terminato da poco il corso che abbiamo fatto e poi nel Sisma Centro Italia. Ecco, l'associazione è anche iscritta all'elenco centrale delle organizzazioni del Dipartimento Nazionale, quindi viene riconosciuta anche dal Dipartimento, questo nel 2015, alcuni anni dopo, insomma, è tutto qua. Quindi cos'è che fa la GEPRO, cioè l'Associazione Nazionale di Protezione Civile? Gestisci i campi di ammassamento e accoglienza, quindi i geometri vanno sul luogo dove verrà fatta la tendopoli o dove verrà creato l'ammassamento e vanno a verificare se ci sono i requisiti del territorio, quindi dove vengono montate le tende, se la cucina va bene montata lì, come poter fare gli scarichi di tutti i vari bagni o servizi igienici che ci siano all'interno di un campo. Quindi gestisce la parte amministrativa e il controllo dei campi di accoglienza, campi di accoglienza ricordo che sono i campi dove le persone vengono alloggiate in un periodo medio-lungo durante il periodo di emergenza vera e propria. Poi cosa fanno? Cioè affiancano i centri operativi comunali, quindi entrano all'interno delle strutture comunali, le incocche che accennavo prima e vanno ad affiancare la parte tecnica del comune per dare un aiuto anche dal punto di vista tecnico, perché tante volte quando succede un'emergenza o un sisma soprattutto i tecnici comunali che abitano nel comune sono i primi che hanno delle problematiche da risolvere a casa loro e quindi tante volte tralassano giustamente l'attività che deve essere fatta all'interno del comune e poi alla fine verificano gli edifici come dicevo prima nel post-evento sismico e alluvionale perché nel 2010 alcuni di noi sono intervenuti anche nell'alluvione che si è verificata nella parte sud di Padova, quindi devo dire l'emergenza e che aveva creato notevoli problematiche. Ecco i ruoli istituzionali sono il rapporto con le scuole, noi ci crediamo molto nel fare in modo che comunque la protezione civile possa entrare nelle scuole come geometri, sono la buona pratica nel costruire perché quando facciamo i sopraluoghi soprattutto post-emergenza ci accorgiamo magari che possiamo fare molto meglio nella progettazione di fabbricati chiaramente quando vengono realizzati, facciamo prevenzione dell'emergenza, vi accennavo prima la redazione dei piani di protezione civile comunali, gestiamo l'emergenza perché siamo presenti all'interno dei campi di ricovero della popolazione e chiaramente come vi accennavo cerchiamo di imparare come si fa a ricostruire in una maniera adeguata perché il problema non si verifichi nuovamente. Vi ho elencato qua velocemente, ma ve l'ho già accennato un po' quali sono state le nostre attività a grandi linee, chiaramente qua poi noi durante le attività di non emergenza, noi lo chiamiamo in tempo di periodo di pace, noi facciamo formazione, quindi corsi formativi, facciamo esercitazioni, quindi durante l'anno creiamo delle esercitazioni sia a livello provinciale sia a livello regionale per tenerci pronti chiaramente in caso di emergenza. Ho inserito, voglio dire, ecco, l'esercitazione che abbiamo fatto regionale di protezione civile a Rovigo nel 2018 dove è stata la prima esercitazione a livello italiano dove abbiamo messo insieme i geometri liberi professionisti e il volontariato di protezione civile fondendoli assieme e cercando di fare una esercitazione nella quale entrambe le parti potessero mettere in pratica le proprie competenze, chiaramente il volontariato da una parte e noi liberi professionisti dall'altra. Ecco, questa è un'attività che abbiamo fatto all'interno dei comuni, il supporto dei centri operativi comunali che vi accennavo prima, dei COC, questa è una scheda EDES, vi ho fatto il frontespizio di una scheda EDES che abbiamo utilizzato e che viene utilizzato tuttora nelle emergenze post-sisma, quindi solamente post-sisma, qualcosa è stato richiamato anche nelle emergenze alluvionali, però non c'è ancora nulla. Questi sono alcuni esempi di esercitazioni che abbiamo fatto nel 2012, questa è una esercitazione che abbiamo fatto all'Aquila, quindi avevamo appena terminato il corso e prima del sisma Emilia-Romagna, quindi stiamo parlando ad aprile 2012, siamo recati per fare delle verifiche all'Aquila e incaricati al Dipartimento e a maggio 2012 si è verificato il sisma Emilia-Romagna, quindi eravamo già pronti. Questo è un altro fabbricato pubblico che è stato verificato in provincia di Rovigo nel 2014 e per concludere, perché adesso io avrei concluso, io ho indicato come ultima slide qua che il geometra deve portare le proprie competenze tecnico-professionali all'interno del sistema protezione civile. Questo non mi stancherò mai di dirlo personalmente perché io ritengo che all'interno del sistema protezione civile ognuno, ogni cittadino in base delle proprie competenze, in base alla propria attività lavorativa, possa comunque dare molto al sistema protezione civile, chiaramente ognuno per la propria competenza, quindi io faccio coordinatore di un'associazione di protezione civile da 20 anni e quando succede un'emergenza chiaramente non posso mandare l'elettricista, tra virgolette, chi fa il lavoro di elettricista durante il giorno, voglio dire, a fare il montaggio di una tenda e chiaramente lo manderò a fare un impianto elettrico all'interno di una tenda perché chiaramente so che è uno dei lavori che sa fare, lo sa fare molto bene perché è il proprio lavoro quotidiano, ma questo parlo di elettricisti, ma posso parlare di idraulici, posso parlare di qualsiasi attività che uno possa fare, quindi molto importante che il cittadino si ponga a servizio della protezione civile e per concludere vi dico che Geometra, come vi ho già accennato, come avete visto, ma sicuramente ci saranno altre possibilità, può fare molto per la protezione civile. Nelle quattro fasi avete visto che comunque noi all'interno ci siamo, noi crediamo molto in quello che facciamo, speriamo, voglio dire, che nel tempo ci siano meno emergenze possibili, però comunque noi continuiamo la nostra attività e voglio dire, ritenendo che sicuramente l'apporto che noi diamo come professionisti, in base alle nostre competenze chiaramente, possa essere qualcosa in più che vada ad aiutare il sistema di protezione civile nazionale. Vi ringrazio, arrivederci.